È sicuramente un protocollo che risulterà efficace e ci darà la possibilità ovviamente di crescere professionalmente e di essere a servizio di tutti i lavoratori, nel senso che l'obiettivo è quello comune di tutelare appunto la sicurezza dei lavoratori. Come Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri di Bologna, così come tutti gli altri a livello nazionale, ci occupiamo ovviamente di effettuare quella che è la vigilanza ordinaria relativa appunto alla verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, sia dal punto di vista contributivo, fiscale, retributivo e poi l'altro aspetto importante è la vigilanza tecnica, cioè appunto la verifica del rispetto delle norme relativi alla sicurezza. Da questo punto di vista nel settore edile troveremo sicuramente un'importante collaborazione. Noi come scuola edile abbiamo questa funzione molto importante di collaborare, per noi è un onore. Il cambio decisamente importante del nostro settore tecnologico e non ci mette in condizioni di, sui giovani, creare una nuova cultura della sicurezza. Cultura della sicurezza e soprattutto prevenzione. Noi partiamo dai ragazzi quando hanno dai 15 anni in su arrivare fino alla formazione tecnica superiore, quindi passaggi molto importanti, oltre la quotidianità. Noi da 75 anni siamo presenti sul territorio e della sicurezza abbiamo sempre fatto un nostro vanto. Ripeto, è un nostro onore essere di fianco all'arma per questo lavoro di supporto e di massima collaborazione. Grazie. Grazie a tutti